Lo sviluppo delle saline di Cervia, in particolare dal punto di vista turistico, è al centro di un documento di intenti appena approvato dal Comune, intenzionato a investire nuove risorse per consentire una maggiore conoscenza della storia e delle origini di una parte importante della tradizione cervese. Tra gli obiettivi dell'amministrazione comunale c'è il ripristino dei collegamenti tra la zona delle saline Cervia Nuova attraverso percorsi di mobilità fino al porto canale. È in programma un progetto di valorizzazione dei luoghi storici, con tanto di scavi archeologici, mentre si cercherà di coinvolgere i privati nella redazione di un progetto per valorizzare le bellezze naturalistiche delle saline. Il Comune ha in mente di approfondire i rapporti di cooperazione con l'ente di gestione per i parchi e la biodiversità Delta del Po, con le amministrazioni comunali, siti in area parco e con gli stakeholder significativi che operano sull'area, sfruttando inoltre le opportunità di finanziamento europee, nazionali e regionali per progetti di sviluppo dell'area salina. Gli sforzi compiuti fino ad ora devono spronarci a guardare avanti e ad ampliare le potenzialità che il comparto salina può portare come valore aggiunto per la città, spiega il vice sindaco di Cervia Gabriele Armucci. Dobbiamo puntare ad ampliare ulteriormente il mercato turistico a valenza ambientale, oggi non pienamente ottimizzato rispetto alle potenzialità dell'area che, come è noto, rappresenta la porta sud del parco del Delta del Po della nostra regione. Ci attiveremo, conclude, per strutturare un master plan per l'identificazione delle diverse potenzialità di crescita e differenziazione economico-turistica.